è spenta ce l'avevo spenta ce l'avevi accesa te perché ce l'ha accesa lui eh io ce l'avevo spenta io non scendevo eh l'ho vista te che ho detto mo si impunta ma ce l'aveva accesa lui e non ce l'avevo accesa io stavolta io di lì non scendo vaffan cuore andiamo guarda il vicio come l'ha in crisi guardalo guardalo guarda che non gira più cazzo non ce la fa più e mo che te fai lì qua c'è il buco non puoi scendere aspetta max max c'è un minuto di qui c'è un minuto di qui c'è un minuto di qui un minuto di qui è non arrivare là ma se facciamo un po di benzina stavolta era lui io ce l'avevo spenta perché ho spento in alto io solo che ce l'aveva acceso il vito era un po più distante ma magari ti ha preso meglio che ha la sarangia dica vada via qui comunque ti giuro quando l'ho visto che ha imbucato ho detto io di lì non vado giù perché sicuramente ci si incuzza cazzo non ha fatto in tempo arrivare e si non poteva girare ormai passiamo soprattutto che cazzo ce ne frega noi ascolta noi dobbiamo arrivare là là è dove vedi il lago sotto dove vedi i furgoni almeno vedi quella montagnetta là dei sassi dove siamo scesi stamattina e lì sotto c'è il lago di lugano e dove quando torna che siccome non è stanco il Miche si metterà a fare allenamento su quelli lì tu pensa porco diavolo ma va te ne fa un bagno gli dico andiamo sotto l'ombra o? andiamo all'inizio